Francesco Bolloni, domande facili sempre, noi a prescindere, invece no, qual è la cosa più difficile dell'organizzazione così a partire da zero di un festival come quella del Terminino Film Festival? Beh, intanto riuscire ad avere dei film in anteprima, soprattutto quando è un piccolo festival, è una prima edizione, questa è una delle cose più difficili. Quindi, insomma, però noi non demordiamo, sono molto contento perché siamo riusciti finora a fare una programmazione che io dico che è trasversale perché questa prima edizione appunto è dedicata alla commedia, io penso che ci sono tanti modi per declinare la commedia, ci sono tanti modi per poter far ridere, quindi apriamo il festival con Vacanze di Natale, il primo Vacanze di Natale di Vanzina, che è il primo pilot dei Cino Panettoni, diciamo così, fino a passare dal documentario di scuola, fino ai De Pils, che sono dei ragazzi che hanno avuto successo partendo da internet, sul web, e fino a Gig Robot, che è uno dei film, insomma, più belli della prossima stagione, che è un film in anteprima, quindi noi siamo, insomma, contenti. Però, insomma, una delle cose più difficili, e poi un'altra cosa più difficile, un'altra cosa è quella di formare una squadra. Ecco, insomma, cominciare ad organizzare, ripeto, da zero e proprio prendere le misure di tutto quello che serve, di tutto quello che è necessario, di tutto quello che bisogna tirare su, non è un'impresa facile. No, l'importante è essere circondato da persone che sono capaci, talentuose, e io credo che noi siamo circondati da persone che hanno grandi capacità, a partire da Susanna, da Alessandro, che è il direttore organizzativo, per arrivare all'ufficio stampa Manze e Piccirillo, insomma, siamo una buona squadra. Questo è Sancho, Vanzo, la nostra mascotte. Vieni qui, Sancho, che ti presento. Vieni qui, vieni qui, fino ad arrivare. Ecco, adesso. Vieni qui, fino ad arrivare, la nostra mascotte, che è Sancho Panza, che insomma, io ormai non mi muovo senza di lui. È un punto di riferimento anche lui. È un punto di riferimento. Eh, beh, ma sai che cosa dicono a Hollywood? Non mai recitare con i bambini e gli animali. E quindi noi bisogna sfatare. Perché? Perché lo dicono, perché sono più bravi. Certo, poi tolgono la scena agli attori. Tolgono la scena, esatto. Sono più bravi degli attori, veri? In effetti, insomma, lui una certa bellezza ce l'ha, possiamo assolutamente dirlo. Questa è la prima edizione, da qui in poi, insomma, diventerà ancora più difficile perché bisognerà migliorare poi ogni volta. Beh, intanto cerchiamo di arrivare alla fine, nel migliore dei modi. E poi, insomma, speriamo che sia anche l'inizio e che questo festival dia la possibilità anche di valorizzare questo territorio, che è un territorio meraviglioso, con la sua montagna, col Terminillo, con i laghi, la col Santola, la col Turano, con Rieti, una città meravigliosa. Solo a pensare a Rieti Sotterranea, che insomma sono dei luoghi, dei posti meravigliosi. Quindi spero che sia un'occasione. D'altronde, il paese d'Italia che cosa vuole vendere? Il petrolio? No. Deve vendere cultura o la bellezza di questo paese. Quindi la cultura e la bellezza, in questo caso, l'occasione di un festival sul cinema, mi sembra un buon momento per coniugare appunto cultura e bellezza. Attraverso la commedia, perché comunque è un momento anche di festa. Come diceva Scola, a cui abbiamo dedicato questo festival, insomma, per ridere bisogna almeno essere in due. E quindi, insomma, spero che questo sia un momento per stare tutti insieme, anche per fare in modo che la popolazione del Terminillo, di Rieti, possa vivere con alcuni dei loro beniamini insieme, questa settimana, insomma, in un modo gioioso e felice. Senti, io direi di chiuderla qui. Bene, insomma, serve, perché di pessimisti ce ne stanno tanti. Io direi di chiudere qui perché Stancio si sta un po' annoiando. Eh sì, ha sbadigliato, ha sbadigliato. Ti stai annoiando? Eccolo qua.